Signori, benvenuti in una nuova puntata della Project Isothermal Expert Raga, nella scorsa puntata abbiamo fatto questo mostro qua che mi genera 82.000 barra quasi 83.000 RF su TIC Abbiamo 116 stack di Cyanite che tra l'altro vorrei capire che cosa ci possiamo fare A parte tipo darcela qui in capoccia Allora raga abbiamo fatto quel processo, quello era il reattore Io off camera ho fatto un altro paio di semi della Mystical Agriculture Perché raga ovviamente ve li evito Abbiamo fatto off camera Nature Se non sbaglio anche un altro paio Silicon, Earth, Fire, Ice, Stone, Water, Wood, Copper, Limestone, Basals, Nature, Marble, Sulfur, Rubber, Nether, Salt Pepper e Apatite Non è che ci servissero urgenti Che non ci servono praticamente a una minchia Se non per completare le quest Quindi facciamo in questo modo Ci mancano i semi delle creature Quindi tipo la mucca, i pesci L'Insanium Farmland che è la più potente Mi toglie 1 minuto e 41 Normalmente vorrebbe 3 minuti e 45 Quindi in teoria vorrebbe 2 minuti e 4 secondi Per crescere il Nether Star Seed Si vabbè Però raga Contate una cosa Che noi possiamo Una volta ottenuti un bel po' di semi Possiamo tranquillamente tipo spammarli Cosa ve l'ho dito a fare Vabbè raga Semi a parte Adesso non ci interessano i semi Perché sono tutte cose che Ovviamente ve le sto evitando Perché non ha senso che io vi faccia vedere Guardate questo è il seme del silicone Facciamo il seme del silicone in questo modo No Sono 4 oggetti nel cazzo 4 essenze e un seme Cioè non è niente di Vabbè Sicuramente era bloccata la quest E quindi tipo Ha pensato Lui ha detto Ma io non l'ho visto E vabbè Non l'hai visto Che cazzo ti devo dire Comunque noi vogliamo Cioè io Voglio puntare A sbloccare la meccanismo Quindi per sbloccare la meccanismo Abbiamo bisogno di continuare In questo ramo di quest Quindi innanzitutto abbiamo bisogno Dell'isothermal rock crystal Per fare l'isothermal rock crystal Abbiamo bisogno di questo crafting qua Quindi togliamo Questa cosa qua E andiamo a dirgli Guarda ciccio Qui dentro Ah no l'ho già messo Sono deficiente Qua dentro mi puoi fare L'isothermal crystal Quindi andiamo a vedere Se possiamo farlo Vediamo anche in quanto tempo Me lo fa Non penso me lo faccia in poco tempo Però magari Magari si padron frodo Magari si Ok ha finito Vabbè Io non volevo essere Un attimino così Affrettato Però Isothermal celestial crystal Per fare l'isothermal celestial crystal Vuole un attimino Un paio di cose Un po' più Complicate Però Non penso Sia Un problema Vedete a me Questi crafting così Non è che mi piacciono Più di tanto Perché poi sono crafting Ridondanti Che rompono le balle Più che altro Sono lunghi E tediosi Proviamo a richiedere Un'isothermal Celestial crystal Vediamo cosa Tutto vuole Si Che poi Tra l'altro Ovviamente Off camera Gli ho Praticamente Detto Che Deve craftarmi Le slate No Un exalted orb Isothermal frame Isothermal frame tier 2 Che vuole tutta sta roba Più l'heart of diamond Che si crafta in questo modo Va bene Va bene Allora Allora Isothermal frame tier 2 Quindi questo me lo fai così Tutto il resto dovresti Craftarmelo Vediamo Si tutto il resto Tranne l'heart of diamond Ok l'heart of diamond Lo dovrebbe craftare Come crafting Normale Mentre tutto il resto Dovrebbe craftarlo All'interno Della Dissolution chamber Ah forse il piccone Mi ha colpito Ok Isothermal Frame tier 2 Vediamo Quanto ci mette Ma Non sembra Metterci più di tanto Raga Vediamo Secondo me Secondo me Conviene Fare più Dissolution chamber Upgradarle al massimo Quando avremo ovviamente L'energia a portata di mano E poi Andare a craftare Andare a fare tutti i vari Autocrafting Del caso Cos'è che stai provando Ad autocraftarmi Illumination powder Perché non Non ti piace Vedete perché Non conviene Dare Tutta la priorità Perché non riesce A craftarlo Scusa Andiamo A richiederlo Allora Isothermal Frame Tier 2 Secondo me Il problema Lo sapete dov'è Sta qua Questo è a posto Ma questo ovviamente Non lo è Ma Lui in teoria Dovrebbe Mandarmi L'acqua marina E la glowstone Scusa E Acqua marina Ne hai Glow Eh Ma se non saprebbe Come fare la Cobblestone Me l'avrebbe Detto Scusa Ma la glowstone Dovrebbe sapere Come farla Eh Sì Infatti Lo sa Non so perché Questa cosa Della Della Illumination Powder Gli crea Problemi Non ne ho La più Pallera Del motivo Ok Quindi abbiamo L'isothermal Frame Tier 2 Molto Well Ora Ci chiede L'ultimate Isothermal Circuit Che vuole Queste cose qua Che abbiamo Già automatizzato Più la White White Laser Lens Che si Crafta In questo Modo qua Cazzo è Questo Tini No La Tini Dread Rubber Ma tu sei un Figlio Tu sei un Figlio Della Merda Perché Lattini Dread Rubber Noi la stiamo Mandando In automatico Tutta A farsi Qui dentro Mamma mia Ragazzi Ma veramente Dai Non è possibile Allora Diciamoli a lui On to activate Quindi vuol dire Che Se noi Tipo Acceleriamo Un attimino Qua Lui dovrebbe Farmi Tipo A manetta Ok Quindi in teoria Dovrebbe Riuscire Ok Lo blocchiamo Un attimino Comunque Il Crafter Ha Un paio Di stack Di roba Ultimi No Non l'abbiamo Fatto Ultimate Isothermal Ok Ah può fare Tutto tranne Il crafting Finale Praticamente Allora Pattern Dammi Questi due Più Me ne fai 62 Ah Vabbè Le facciamo Craftare E poi Vediamo Un attimino Allora Quindi Facciamo Ultimate Ne ne chiedo Uno Dovrebbe Tranquillamente Craftarlo Mamma mia Ragazzi Secondo me Urge Assolutamente Diferenziare Il crafting Assolutamente Fare una zona Solo Ed esclusivamente Per Tra l'altro Avendo i semi Della Acquamarina Possiamo Tranquillamente Fare un crafter Tra l'altro Dobbiamo vedere Acquamarina Ok Con questo Teniamo Direttamente L'acquamarina Che possiamo Mandare Direttamente All'interno Di un Mac Mac Cyborg Che poi Alla fine Sì 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 Secondo me Ci conviene Fare così Ragazzi Perché Allora La lunga Ok Adesso Va bene Ne crafti una Va bene Ma la lunga Diventa Tedioso Perché tu Devi aspettare Che lui Crafti una Cosa Poi ne deve Craftare un'altra Nello stesso Macchinario Quindi Non ha Non ha Non ha Molto senso Se noi andiamo A controllare All'interno Della In questa Dissolution Chamber In questa qua Che va A liquid Starlight Noi abbiamo Otto Cioè Otto crafting Raga Otto crafting Diversi Cioè Non ha Non ha Senso Continuare A caricare Questa Dissolution Chamber Cioè Non ha Non ha Alcun Senso Anche perché È facile Ottenere La liquid Starlight È molto Facile Cioè L'acqua marina Cazzo Ne otteniamo 16 Una ci dà Se non sbaglio 1000 millibucket Voglio dire Non è Cioè Un'acqua marina Praticamente Ci fa Un crafting La maggior parte Delle volte Quindi Quindi Secondo me Conviene Conviene Fare Una Zona Cioè Abbiamo Allora Raga Cioè Voglio dire Abbiamo Uno Due Tre Piattaforme Che non stiamo Ancora Utilizzando Non stiamo Ancora Utilizzando Cioè Una La posso Usare Tranquillamente Solo Per il Liquid Starlight Cioè Tipo Spammare A manetta Neanche a manetta Perché Se Tipo Allora Andiamo a controllare Lui ha Tre minuti Di growth rate No Con Insanium Perde Un minuto E 21 Non credo Penso Penso Che ne perda Un po' Di più Comunque A prescindere A prescindere Se non sbaglio Ma possiamo Anche già Provare A farlo No 1 2 3 4 Proviamo A vedere Quanto Dove 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 Il terzio Essence Per esempio No Andiamo A recuperare Una Su premium Così E così Molto Well Questo Te le Te le Te le Ributto Qui dentro Quindi abbiamo Questa Abbiamo Questo Abbiamo Questo Seed Un prosperity Seed Grazie Andiamo a vedere Quanto tempo Effettivamente Ci mette Un Acquamarina Seed A crescere E soprattutto Quanta esperienza Mi da A botta Perché Quando tu Ti metti La Insanium Essence Praticamente Ti da Più Essenze A botta Quindi Potrebbe Essere Molto 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 Buona Come cosa Allora Voglio Verificarlo Senza Andare A mettere Un Drawer Bah Sedici Secondi Ragava Sedici Secondi Ma Che cazzo È Bisogna Verificare Quanto Bot Anipot Chest Bim 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 Acceleriamo Un attimino 6 Ok Mi da 6 A botta 6 A botta O di Semi O di Essenze Quindi Alla Fine Dei Conti Ragazzi Cioè Voglio Dire Si Va Benissimo No Va Molto Bene Cioè Se noi Vogliamo Tipo Fare Una Farm Come Che cazzo È Successo Ah È Vero Che Ah Tra l'altro Ragà Non ve l'ho Detto Mi stavo Dimenticando Vedete Che è Tutto Azzurro Qua Perché Abbiamo La 16000 K Storage Dische Ragazzi L'abbiamo Craftata Ovviamente Off camera Ho Dentro La storage Dische Molto Well Molto Molto Well Cos'è che stavamo Facendo Mi sono Completamente Perso Il filo Del discorso Vado Un attimo In bagno Ok Abbiamo Anche L'ultimate Isothermal Circuit Crude Crude oil bucket No Vabbè Angelo Si chiamava Il centrifugale Separator Vuole la Bituminous Sand Quindi abbiamo Trovato Un modo Per Utilizzare La Bituminous Sand Ci serve Il centrifugal Separator Molto Well Si Questo Lo buttiamo All'interno Aspettiamo Un attimino Che ci faccia Il centrifugal Separator Fare i macchinari Della thermal È facile Fare I macchinari Magari Di altre Mod È Un attimino Un po' più Un po' più Difficile Diciamo Non è Non è così Scontato Come sembra Un Due Tre Component Molto Bene Quindi Io direi Di Allora Mi serve L'energia È un Cavo Che gli Dì Agli Oggetti Quindi Direi Assolutamente Di Iniziare Fai Fai vedere Un attimino Pattern Ne dovrei avere Pattern Ecco qua Poglio una anche qua Wireless Per fare L'energia Wireless Ci serve Sto coso qua Per fare Sta cosa Ci serve Sta cosa qua Per fare Le Iron Bars Dovrei Già Saperle Fare Ok Questo Invece È un po' più Non è così Easy Come sembra Perché Questo Lo possiamo Fare Questi sono Crafting Normali Ok Mentre Vediamo Un attimino Un attimino Vabbè L'oni Scusa L'oni La possiamo fare Dallamente In chamber Però Anche il magma 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 Tutto il resto Dovrei averlo Però Mi serve Una Solidification Di cui Non ho Il crafting Chamber Lapislazuli Block Vediamo Se Ovviamente Abbiamo Tutto Chiediamo Una Solidification Chamber Vediamo Ah Molto Well Molto 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 Bene Molto 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 Bene Allora Per quanto riguarda Il crafting Diciamo Della No Non il pulverizer La fornace Della Dell'Umber Direi Di farlo Allora Aspetta C'è sempre No Il centrifugale Separato Lo voglio montare In un'altra parte Quindi 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 Lo voglio montare Qua Ah E poi Aspetta Bim Molto Bene Poi Questo Lo possiamo mettere Anche qua Tanto l'energia Bam bam Va a fiumi Allora Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Wireless Questa cosa qua Per fare L'Ambra Abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Di una File charge Quindi File Charge Io devi Richiederne 64 Gunpowder La Si Non abbiamo La gunpowder Redstone block Più Gold hangot Queste sono Le tre cose Che ci servono Però ci serve Anche la Melting Chamber Cosa Che Ovviamente Ma Scusa Un attimo Questo Non ho Il crafting Ma Mi pare Ah No C'è il crafting Mi sembrava Strano Allora Melting Chamber Vediamo se me la crafta Molto in fretta Molto più in fretta Di quanto pensassi Poi ci servono Dei magma block Quindi noi Andiamo A craftarli In questo modo Dei fluid pipe E delle Vrench E una Vrench Non delle Vrench Che cazzo Devo fare Fare Vedere Più che altro Se ho Anche altri Energy pipe Non mi Sembra Non mi Sembra Non mi Serve Diciamo Andare a fare Chissà che cosa Però Possiamo fare Così Poi così E poi Così Quindi lui Dovrebbe Prendere Il magma Ho sbagliato Tantissimo Perché mi serve La fire charge Ecco Adesso Adesso dovrebbe fare La crystallizer D'umber Opa Perfetto Perfetto Quindi Wireless Eh Non ho L'autocrafting Della Wireless Tieni Chiediamo Ok Non si chiama Wireless Ma si chiama Energy node Molto Bene Molto Molto Bene Allora Questa Se non sbaglio Andava Con la GPS Card Ehm Ehm La fregna Facce la Volevo dire Allora GPS Card Molto bene Poi Carbon Paper Molto bene Poi Aspetta 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 Così GPS Aspetta e ho capito ma ma io questo lo devo collegare o lo esono non ho ben capito allora prima di apprezzarlo qua e mettere questo no infatti non da funzia a meno che non voglia un pipe per funziare no non penso penso che sia proprio sbagliato il ragionamento allora facciamo così e così no penso invece che non funzioni così ma che funzioni così mi pare strano eh però proviamo neanche così scusa se io faccio così però poi dico con un'altra gps card la mando qua ah ok ok funziona quindi vuole due gps card una per l'entrata e una per l'uscita praticamente praticamente eh perché non funziona più non funziona più eh ma perché hai iniziato a sfidire l'energia e poi ti sei fermato perché perché non sto capendo come cazzo è che funziona questa cosa scusa allora proviamo a toglierla niente proviamo a mettere così a dargli un energy pipe allora cyclic scusa eh ora spiegami tu come dovresti funzionare perché non puoi tipo trasferire energia gli metto un upgrade ti incazzi allora dici ah non è bello non lo voglio per trasferire cioè non funziona così pito non 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 è così che funziona no eh book ecco allora cyclic book che è questo ok dov'è dove è gears block block ecco qua energy transfer node e ho capito ma ma scusa e wireless transmission of energy cioè non mi ha spiegato niente di di diverso non mi ha detto niente di diverso cioè voglio dire ah cioè voglio dire no sono un deficiente raga sono un babeo sono un babeo ora mi è venuta l'illuminazione ora mi è venuta veramente l'illuminazione questo è molto più diciamo intelligente di quanto pensiamo allora qua sono due le cose o praticamente ha bloccato questa cosa in modo da non lo so tipo cazzo ne so non consentirti da di utilizzarla vediamo questo sta caricando scusa aspetta un attimo no 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 non 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 sto capendo non non sto effettivamente capendo raga cioè non è non è una cosa cioè non sono stupido io allora se il ragionamento funziona vuol dire che io lo posso spostare dove voglio tipo togliamo tutto questo di cose che effettivamente non ci serve ciao ciao pannello solare ciao quindi mettiamo il centrifugal separator qua gli diciamo questa gps card deve dargli l'energia quindi adesso lui dovrebbe avere energia ok quindi ok l'energia non scende lui sta andando molto bene mettiamo drawer facciamo così poi upgrade 1 2 3 4 5 6 7 oppure no facciamo 6 più un void upgrade facciamo così e poi gli diciamo guarda fa uscire tutto sopra molto bene prendiamo la chiave della della providenza quindi lui sta facendo effettivamente terracotta no non sta facendo la terracotta ma poche parole sta facendo quello che vogliamo ovvero l'ivioil e tutte cose a noi ci serve il crude oil per andare avanti no bene o male mi sa che ho capito come funziona quella cosa lì allora ci serve un bucket molto easy bucket beam crude oil molto bene quindi il crude oil se non sbaglio può essere lavorato all'interno del fractionating steel per ottenere il ivioil e light oil quanti ah no questo è un altro tipo di di materiale ma cosa serve ok fractionating steel quindi ci serve questo eh ah non l'avevo ancora fatto vabbè prendi gli oggetti da sinistra quindi lui ok andiamo a prendere un energy transfer node una gps card la leghiamo ovviamente al fractionating steel lo lo piazziamo qua sopra è uguale è veramente uguale non cambia niente poi quando avremo la fluxnet raga sarà molto più più easy la cosa cioè senza rotture di coriandoli allucinante component prendiamo un component e poi tre flux as usual molto bene quindi andiamo a dare questo crude oil bucket lo mettiamo qui dentro e lui non funziona era un po' stato male ok quindi adesso dovrebbe funzionare molto bene stiamo ottenendo heavy oil e light oil ora tu hai un solo output un solo tipo di output va bene allora tank e tank ok perchè light oil non esce perchè lui c'ha heavy oil dentro allora light oil ok il bitumen però io lo voglio rimandare di qua perchè effettivamente è una cosa pipe quindi facciamo da dietro mandami via gli oggetti ok qua c'è il drawer e qua c'è il macchinario quindi facciamo in questo modo qua svencettiamo e chiudiamo in questo modo quindi da dietro non dovrebbe vedersi niente molto 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 well ovviamente ora un bel exporter non te lo leva nessuno con ovviamente il bitumen la bitumen send speed upgrade stack upgrade quindi qua sotto tra l'altro il fatto che comunque diamo energia via wireless senza cavi e senza niente ci consente di fare questa cosa molto carina ovvero mettere sotto così 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 prendere dei cavi attaccare il tutto molto bene raga molto 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 bene quindi in definitiva a noi ci serve un secchio di questo e un secchio di questo che non ha visto perché refining the fuel ok la refining the fuel un altro fractionating steel aspetta ok aspetta l'eveoil mi serve per fare un'altra cosa quindi l'eveoil è questo no mentre questo il light oil possiamo utilizzarlo con un altro fractionating steel per fare la il fuel molto bene molto 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 bene mi piace raga mi sta piacendo un sacco mi sta mi sta piacendo un sacco questa questa puntata dai è molto interessante perché ti fa ti obbliga a craftare molte cose ovviamente in modo che tu le possa automatizzare giustamente quindi gli diciamo lui deve prendere da sinistra quindi prende il light oil solo il light oil perché lì ci serve per altro raga quindi però lui aspetta se lui consuma aspetta facciamo le cose per bene tanto non dovrebbe prendere nient'altro perché comunque c'è il light oil e poi è pieno quindi non dovrebbe uscire nient'altro quindi se noi facciamo così facciamo così e diciamo prendi il light oil in teoria lui dovrebbe prendere solo il light oil molto bene quindi se noi facciamo così facciamo così facciamo così mandiamo in automatico il light oil quello che abbiamo fatto qui dentro mentre l'iv oil ovviamente lo dobbiamo conservare l'uno o nell'altro va bene va bene va bene va bene allora dissolution chamber la possiamo autocraftare la risposta è sì ma con una sì grande quanto una casa quindi dissolution chamber bim chiediamone una molto bene beh ben 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 benissimo benissimo ben quindi andiamo a vedere evoil l'ivoil ci serve per fare il simple machine frame quindi iniziamo a metterlo di qua e a dirgli fluid input pull evoil molto bene quindi lei sarà configurata con l'ivoil per sicurezza andiamo a fare una cosa di questo tipo facendo pipe e dicendogli guarda che qua devi mandarmi solo l'ivioil ma che bello che sei ma che bello che sei al bacio quindi quindi questo fractionating still aspetta che mi sta venendo in mente un'idea no? lui adesso deve ricevere energia lui pure quindi anziché dirgli praticamente al wireless bla 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 di mandare energia al macchinario ben preciso possiamo dirgli mandamela al cavo direttamente in modo che lui ricarichi entrambi i macchinari ora il fractionating still ovviamente andiamo a potenziarlo questo energy transfer node molto bene andiamo a metterlo di qua non so se gli stia dando dell'energia perché e allora vuol dire che a meno che aspetta 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 eh scusa molto bello lo sapevo cioè io posso tranquillamente fregare qualsiasi tipo di modpack è inutile cioè è più forte di me è più forte di me allora lui vuole ovviamente più energia quindi gliela diamo ah molto bene lui non dovrebbe avere nessun tipo di problema però lui ha il sulfur in mezzo ai cogliomberi quindi gli diciamo allora questa è vuota ok quindi la togliamo eh potrei tranquillamente mandare il sulfur qui dentro quindi qua gli diciamo così svinciamo quindi lì dovrebbe andare il abbiamo la refined fuel oh molto bene refined fuel allora ce la diamo tutta in faccia che ci serve uno per fare la quest e ovviamente ormai abbiamo due dissolution chamber facciamo così perché la dissolution chamber con la refined fuel ci permette ci permette di fare il supreme machine frame della della quella ma in realtà io potrei tranquillamente fare così e dirgli così inputzzare tranquillamente il eh eh ah ok devo mettere l'auto output effettivamente 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 allora qua possiamo mettere due crafter in modo da automatizzare il tutto però per il momento gli diamo l'energia ia 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 quindi questo lo possiamo togliere in modo che ha molto bello no no stronzo no item input disable così almeno non prendi il zulfur zulfur ma che bello ma che bello cioè ma quanto è bello cioè guardate guarda cioè è automatico è automatico otteniamo la bituminous sen la mandiamo a sfracellarsi qui dentro teniamo live oil lo lavora teniamo la refine the fuel che va qui dentro e qua live oil per fare tutti i vari crafting ora crafter ovviamente facciamo due bellissimi crafter raga lo sentite questo odore di non so se lo sentite io lo sento da mezz'ora l'odore di vittoria capito l'odore di vittoria che non è una persona ma quando tipo giochi tanto a minecraft automatizzi tante robe tante cose molto well molto molto well ok abbiamo i due crafter quindi facciamo così magneto attivo grazie poi uno due e tre ah molto bene quindi quindi in definitiva ragazzotti buttiamo dentro tutto quello che non ci serve abbiamo detto machine frame possiamo fare questo in automatico ah no no aspetta questo in automatico e possiamo fare ovviamente il supreme non questo questo e mi fa saltare ah no quello lo fa con la destabilità del redstone ah ok dobbiamo fare una una sorta di autocrafting anche per quello allora qua abbiamo la refiner di fuel con la refiner di fuel mamma mia ragazzi ho la come si dice la allora qua no tu vuoi la refiner di fuel ok supreme machine frame refiner di fuel ok mentre qui dentro ci va questo ok mamma mia c'ho la gola sono rauco perché allora ci serve un magma cru cyborg facciamo l'autocrafting mamma mia raga stiamo arrivando ad automatizzare tutto quanto tutto 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 quanto export ovviamente ci frega il cazzo che diciamo la redstone non credo che sia più un problema perché ne abbiamo 66k e perché poi lavorandola con quel cacchio di di coso cioè non credo che sia più un problema poi speed upgrade stack upgrade un pezzo di redstone infine component flux tre di questi molto molto bene infine per finire proprio in bellezza una dissolution chamber dissolution chamber un crafter è morto il gioco no quanti cazzo me lo stai facendo uno più 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 il pattern ovviamente machine frame l'advanced machine frame ragà mi sa che abbiamo tutto abbiamo tutto quanto allora innanzitutto no innanzitutto questi sono gli unici punti in cui io non vorrei distruggere magma crucible lo possiamo mettere qua e mandare il cavo da dietro l'unico problema è no 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 aspetta facciamo così facciamo le cose un po' più carine quindi facciamo magnet export redstone così cavi molto bene qua importa ed esporta l'unica cosa è che vuole l'energia 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 la dobbiamo mandare per forza di cose in altro modo allora tappiamo il buco molto well e poi la dissolution chamber che dovrebbe aver ormai già craftato dissolution chamber magma crucible dovrebbe mandargli solo gli oggetti un bel crafterigno qua questo lo mandiamo qua uno questo qui dentro e poi un due ok quindi dovremmo fare solamente l'energia transfer node ne facciamo due poi gps card me ne fai quattro direttamente ok quindi uno uno e due quindi dovrebbe funzionare lui sta ricevendo la destabilized redstone quindi andiamo a tappare un attimino il magnet bacchettino molto bene beam lo rimettiamo all'interno quindi abbiamo completato tutte le quest ora dobbiamo solamente chiedere i crafting quindi machine frame prima la simple machine frame quindi lui dovrebbe mandare tutto qui dentro o qui no si qui dentro una volta che ovviamente crafta le cose tutto qui dentro fatto facciamo così vediamo dai vediamo la magia vediamo la magia vediamo la magia raga non vedo l'ora di avere la fluxnet raga non vedo l'ora di avere la fluxnet per le mani e sarà tutto bellissimo tutto molto più rapido e indolore dai su fai la magia fai la magia il problema è sempre il illumination poda raga è sempre questa quindi in definita tra l'altro possiamo automatizzare tranquillamente se possiamo autocraftarla mettendo i semi autocraftando tutto raga facciamo un puntatone la prossima puntata automatizziamo queste cose in modo che tipo mandiamo tut no raga ho già in mente tutto l'impianto ho già in mente tutto l'impianto perché io voglio che queste cose le abbiamo in automatico tipo stack 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 quindi non dobbiamo avere più problemi di nessun tipo con queste cose assolutamente raga non capisco qual è il problema lui dice di voler processare l'ethereal slate per processare allora basic ok queste vogliono le blank slate quindi l'ethereal slate non c'entrano un cazzo allora l'isothermal frame tier 2 vuole liquid starlight e scusa dove cazzo è l'ethereal slate in mezzo scusa cioè non sto capendo qual è il problema qual è il problema scusa perché non non lo capisco allora il problema ragazzotti sapete qual è è che non abbiamo messo un un import al macchinario quindi lui non vedeva effettivamente il processo che lui diceva si io ti ho fatto tutto l'ambaradam di cose ma ti sei dimenticato la cosa fondamentale ovvero l'import va bene va bene va bene va bene va bene va bene ma allora molte volte dopo è scontato troppe cose quindi tipo anche lui poverino non è che è così semplice diciamo andare a craftare il tutto però adesso non dovrebbe essere più un problema mi hanno messo l'import da tutti quindi in teoria dovrebbe funzionare anche per l'advanced machine frame e per il supreme machine frame che comunque abbiamo oh mio dio ma quanto è bello ma quanto è bello raga ma quanto è cazzo è bello advanced machine frame supreme machine frame cioè raga li craftiamo vaffanculo bottiglia li li craftiamo con una facilità esorbitante adesso sembra facile ma in realtà non lo è perché vi spiego un attimino un paio di cose alcuni crafting non sono così semplici come sembrano infatti alcune cose le vorrei automatizzare in modo molto più esemplare per esempio tutti questi automated basic circuit gli smeralli i diamanti cazzate varie vorrei fare una farm in modo che tutte queste cose le più difficili ovvero tutti questi isothermal circuit siano automatici e scollegati dal crafting dalla diciamo dalle risorse base della refined perché lui adesso sta prendendo le risorse che noi abbiamo farmato per craftare tutte le cose il che non sarebbe uno sbaglio però se noi tipo se io lascio per esempio il mondo fk e gli dico guarda mi devi craftare che ne so 100 di ogni devo avere almeno adesso io dico con request magari 100 di ogni isothermal circuit 100 di ogni machine frame 100 di ogni questo 100 di ogni quest'altro mi è mentre per fare alcune cose lui ci mette del tempo però fate che possiamo fargli possiamo richiedergli queste cose anzi 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 request direi di non esagerare direi di chiedergli magari tipo ma uno stack uno stack di ogni di ogni cosa e non dovrebbe essere un problema vediamo attenzione ragazzi ci siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi manca veramente poco andiamo tanto sappiamo già qual è il problema sappiamo già qual è il problema facciamo così e lui dovrebbe tranquillamente craftare il tutto ooooh supreme machine supreme supreme machine frame supreme tra l'altro cosa ci dà il supreme machine frame l'isothermal frame tier 3 con cui poter fare mamma mia mamma mia quanto sto godendo l'induction smelter però per fare questo raga con l'induction smelter abbiamo bisogno del dov'è eh aspetta non ho capito ah no questo è un crafting normale ok mentre questo per poter essere fatto lì abbiamo bisogno della ovviamente di farlo inizialmente manualmente e o fare comunque la il crafting così qual è il tuo problema boh probabilmente è sempre lo stesso problema della minchia ok molto bene attenzione ragazzi ci siamo quasi adesso ci siamo veramente quasi adesso farà bim 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 e dovrebbe completare il crafting vediamo vediamo ragazzotti vediamo vediamo con un rullo di tamburi completato supreme machine frame oh mio dio ragazzotti l'ultima cosa che ci manca da fare e concludiamo e concludiamo ragazzotti è ovviamente l'isothermal frame di tier 3 completiamo il tutto non so quanto tempo ci vorrà tipo un'eternità parapero parapà no in realtà no non credo che ci voglia molto tempo però ci vorrà il suo tempo mamma mia raga ho la voce rauca sono rauco perché sono dietro al gioco tutta l'ora non ho fatto altro che parlare uh aspetta c'ho ancora questo succo multivitaminico zerleca oh mio dio isoterma ma quanto è bello mamma mia raga mamma mao abbiamo completato un altro capitolo ragazzi abbiamo completato un altro capitolo e sbloccato ovviamente il nuovo che è quello della meccanism finalmente quello della meccanism ma ragazzi io voglio verificare con voi un attimino prima di chiudere la puntata 8 e 8 qui siamo a 16 si probabilmente la prossima nelle prossime puntate cercheremo di ottenere mirror of kalandra ma vabbè sti cazzi abbiamo il piccone della morte abbiamo la la spada mamma mia raga siamo veramente a buon punto siamo veramente a buon punto ci manca vabbè queste ragazzi sono queste veramente stupide perché cioè avendo fatto questa tutte queste le potrei tranquillamente tipo fare così no ftb quest edit mode true dove refined e tipo completarle ah però aspetta no no mi devo dare l'oggetto ragazzi perché se no non funziona edit mode false ok quindi 4k 16k 16k 64k 64k lo facciamo 4096 forse storage part poi 16k ok molto bene facciamo ovviamente così ah molto bene buttiamo dentro vediamo orba di tanto spiro 99 918 ok quindi ci manca ancora un po' ragazzi mancano nella prossima puntata probabilmente inizieremo finalmente con la meccanism quindi steel casing faremo ovviamente tutti i vari macchinari iniziali della meccanism la meccanism poi ti sblocca ovviamente la fluxnet porca miseria raga la sto desiderando da secoli da secoli non potete capire poi voglio verificare con voi ma c'è il wind generator quindi effettivamente possiamo generare energia a gratis all'infinito ragazzotti io vi saluto qua spero che la serie vi stia piacendo a quanto vedo sto vedendo delle visualizzazioni un po più alte rispetto al normale tipo un centinaio a video e sono contento sono molto contento ragazzi vi chiedo solo una cosa se ovviamente vi piacciono i video lasciate un commentino anche piccolo mi piace quello che volete una critica mi dite guardare i video non mi piacciono perché guarda i video mi piacciono perché mi fa piacere comunque leggere i commenti mi fa piacere commentare rispondere ai vostri commenti sia in un caso che nell'altro ragazzi grazie di tutto ci vediamo alla prossima grazie a tutti